Saranno luci di speranza più che d'artista quelle che verranno accese per l'edizione 2020-2021 dell'evento di maggior richiamo turistico in tutta la regione Campania. A chiarirlo e a ribadirlo questa mattina è stato l'assessore al commercio del comune di Salerno Dario Loffredo intervenendo a margine delle polemiche sollevate ieri da una fake news che dava per iniziato il montaggio delle luci d'artista che Loffredo conferma ci saranno ma in misura ridotta. Di programmare una gara in tono minore dove alcune luci ci saranno solo sugli assi viari principali non nelle ville, non quindi alla villa comunale ma solo in alcune strade per dare un segno distintivo di festa ai salernitani, alle famiglie e devo dirle anche ai commercianti che dove la categoria che rappresento che mi chiedono comunque di dare un segnale ma chiaramente rispettando tutti i parametri di sicurezza è già il fatto che siano fatti in tono minore veramente sia una festa per non perdere quella tradizione dopo 13 anni continuata di luci d'artista. Ma naturalmente insieme al consiglio comunale di Salerno c'è anche chi la pensa diversamente come il consigliere comunale Antonio Cammarota che scrive piaccia o no luci d'artista in queste condizioni non si può fare. Di qui la proposta di utilizzare i 750 mila euro per abbattere la tassa sui rifiuti rinviata per il covid ma che tra qualche giorno le famiglie dovranno comunque pagare. Non si possono fare perché se si chiudono i ristoranti, non si può bere una birra la sera, i matrimoni debbono essere rinviati perché c'è la pandemia, giusto o sbagliato che questo sia, per coerenza non si possono fare nemmeno le luci d'artista e lo dice chi sostiene e ha sempre sostenuto che le luci d'artista sono state un vantaggio e una bella idea per Salerno, abbiamo proposto il marchio delle luci d'artista. Però tanto mi dà tanto e allora si utilizzino questi soldi che sono 750 mila euro tra fondi stanziati e fondi per la sicurezza per finanziare invece l'abbattimento della tassa sulla spazzatura, quella che non abbiamo pagato a maggio per il covid e che adesso con il covid dobbiamo pagare per intero ed è tra le tasse più salate d'Italia. Uno spostamento di fondi che non può essere realizzato per l'assessore al commercio del comune di Salerno, Dario Loffredo che invece auspica diversi tipi di aiuti e di impegni di più forze politiche nella direzione di aiutare tutte le attività produttive danneggiate. I fondi che vengono stanziati per luci d'artista non si possono spostare, non è un salvadenaio di un risparmio di ognuno di noi che non paghi l'assicurazione ma paghi un'altra cosa, ma questo lo sa, lo sa bene anche il collega che è una persona sicuramente attenta e di qualità. Quindi non è così che funziona. Per ragionare invece poi su altri tipi di sostegno da dare alle famiglie salernitane, ai commercianti, questo bisogna farlo. Anzi spero, voglio dire, che il governo, so che è lo studio del governo, ne ho parlato anche con il collega che lei menzionava, possa rilanciare l'esonero e quindi l'aumento dei spazi esterni ai locali di Bevera, Jeffood, anche oltre il 31 ottobre, andare casomai fino a gennaio 2021. Non vuole niente a stanziare un fondo, toglierlo da lì, rimetterlo a bilancio e ristanziarlo. Si chiamano correzioni di bilancio, si chiamano variazioni di bilancio, questo lo sanno davvero tutti, dato che in Commissione Finanze ne abbiamo parlato. Punti di vista differenti insomma anche sull'aspetto che riguarda come utilizzare le risorse a disposizione, ma se luci di speranza devono essere, meglio chiudere con un buon auspicio quello dell'assessore Dario Loffredo in vista di uno futuro che speriamo possa essere migliore anche per il settore della ristorazione. È evidente che siamo in una situazione di emergenza, i contagi comunque risalgono e dobbiamo tutti quanti rispettare le regole. Guardi, sono uno di quelli che lo può dire in prima persona come testimonianza e quindi rispettiamo le regole nel modo più assoluto e sono certo sicuramente che riusciremo nel più breve tempo possibile a buttarci alle spalle questa brutta storia e ritorneremo a fare, non quello di prima, perché a volte era esagerato, perché sa, andare in un ristorante, avere un tavolo uno a fianco all'altro senza poter neanche parlare, credo neanche sia una situazione bella, ma avere la giusta misura tra un tavolo e l'altro credo che faccia bene allo spirito e uno possa fare anche una conversazione degustando i piatti o bevendo i coq e i tanti gestori salernitani che danno tanta qualità.